buonasera ben ritrovati seconda parte di angoli siamo in compagnia di un gradito ospite che ritorna nel nostro studio il professor giuseppe perone primario di oculistica presso la clinica villa prica buonasera buonasera a te i nostri spettatori bentornato allora è bentornato sia da noi che in realtà in italia non è passato troppo tempo dalla sua ultima esperienza in africa in cui da anni ormai 18 al 98 se non sbaglio quando ha iniziato a dedicarsi a portare la sua professionalità anche in un paese in profonda difficoltà ci racconta un po come è nata questa storia questa è un'avventura nata per casa un po come tutte le storie più belle dell'uomo nascono casualmente questa storia è nata una sera a cena con degli amici dove incontro un galantuomo come io amo definirlo il professor spallino definiva gli uomini galantuomini uomini col colletto bianco in effetti questa persona che ho incontrato è un uomo col colletto bianco che mi parla di un suo impegno in africa in toga in benin a favore di due ospedali del fate bene fratelli mi parla di un frate che aveva una marcia in più e mi dice che entrambi le realtà entrambi gli ospedali mancava l'oculistica fu per me spontaneo subito immaginare la realizzazione almeno di un'oculistica in uno dei due ospedali così questo galantuomo carluccio si chiama iniziò a mettermi in contatto con questo frate fra fiorenzo l'incontro con fra fiorenzo che vedete qui fra fiorenzo non è tutto questo fra fiorenzo è molto di più fra fiorenzo mi coinvolse mi fece innamorare e partimmo nel 99 per l'africa questo è fra bernard un frate che in modo rudimentale si adoperava per l'oculistica in africa e che faceva cose già egregie nel mio primo viaggio incontrai questo frate fra pascal che ha contribuito poi a farmi innamorare dell'africa fu così che nacque la prima oculistica nell'ospedale di afanyan nel togo e l'appuntamento divenne un appuntamento di uno due volte all'anno anche perché il sorriso di questi bambini non poteva far altro che farti innamorare quello lì che avete visto era un caso molto complesso di tre fratelli della benin che venivano a farsi operare da noi tutte e tre con cataratta l'amore scoppiò con questo caso che vedete qui di una bambina con cataratta bilaterale che operammo in condizioni veramente estreme l'intervento ebbe così buon fine che l'anno scorso questa bambina ormai signorina mi ha invitato al suo matrimonio per dire come le cose passano e diventano meravigliosamente belle faccio vedere questo video perché questa è la moneta più grande che un medico possa ricevere e tra un po' la vedrete non è il denaro non è non è nient'altro è solo il sorriso e la gioia è un semplice grazie noi qui in italia ormai non siamo più abituati a entrare in sala operatoria neanche a dire buongiorno noi entriamo in sala operatoria muso duro tutto c'è dovuto non diciamo né buongiorno né buonasera né buon pomeriggio non ringraziamo guardate invece questa bambina quando l'abbiamo sbendata era completamente cieca che si è resa conto di iniziare a vedere che bel sorriso che fa quel sorriso è un qualcosa che ti rimane nell'animo per tutta la vita non lo dimentichi più che però piccolissimo a vedere questa è una bambina che allora aveva sei anni bellissimo e che dopo un po di anni è arrivato sui 17 18 anni ha pensato bene di invitarci lo suo matrimonio ma di aneddoti come questi nella nostra baligia ne abbiamo tantissimi e li custodiamo gelosamente perché sono un qualcosa di meraviglioso questi 18 anni di esperienza sono approdati poi in una raccolta di foto e nel libro che avete visto poc'anzi che abbiamo pensato di realizzare un paio d'anni fa ma più in omaggio a fra fiorenzo che ci ha insegnato e ci ha indicato la strada insieme ai nostri maestri io amo sempre ricordare i nostri maestri che sono loro che ci hanno aperto il cuore e non a caso tutto quello che è stato realizzato quel po che è stato realizzato dal sottoscritto in africa porta il nome del mio maestro perché tutto intitolato al professor francantonio bertè che è stato il mio maestro di vita mi ha insegnato dopo che l'avevano già fatto i miei genitori ad amare il prossimo a dedicarmi al prossimo e devo dire che la conoscere fra fiorenzo è stata la mia grande occasione l'occasione di un riscatto dell'occasione di potersi dedicare veramente al prossimo con la più assoluta semplicità ma non per dare ma solo per prendere perché io ho preso tantissimi da questi bambini chiaramente tutto questo è stato possibile realizzarlo perché alle spalle hai un gruppo di collaboratori meravigliosi ma soprattutto perché hai una famiglia meravigliosa una famiglia che sa mettersi da parte per un mese all'anno tutti gli anni e comprende qual è il tuo spirito qual è la tua necessità e ti dice sì vai non preoccuparti noi per le ferie ci arrangiamo da sole e di questo devo sicuramente ringraziare mia moglie e i miei figli certo ma senta là è riuscito appunto a mettersi una vera e propria clinica oltre a costruire l'altalena come avete visto nella foto poc'anzi per i miei bambini per aristù manaf e tutti i miei bambini sì dal nulla abbiamo realizzato un'oculistica con sala operatoria da fagnan e l'anno successivo su espressa volontà di fiorenzo abbiamo fatto la stessa cosa a tangheta nel nel cuore del del benin a nord questo è un villaggio che amo sempre ricordare che è un villaggio palustre grandissimo tutte le case le abitazioni sono su palafitte praticamente si vive sulle barche ed è un qualcosa che ti segna l'animo perché capisci quanto superfluo abbiamo noi dalle nostre parti questi sono delle escursioni che noi facciamo nei villaggi perché la domenica pomeriggio magari quando non si opera perché anche noi abbiamo un pochino di riposo ci portiamo nell'interno per dare conforto questo è un piccolo supermercato che noi approntiamo del superfluo perché è inevitabile portare dei giochi a questi bambini queste sono le nostre sedute chirurgiche 15 pazienti in una mattinata in Africa non sono sciance sono fatte sono fiero di affermare che in Italia fior di sale operatorie 10 interventi li fanno in due giorni noi in Africa li facciamo in una mattinata con la povertà dei mezzi che abbiamo perché tieni presente che per queste cataratte che si vedono anche senza microscopio senza lampada a fessura molte volte non abbiamo neanche i teli sterli per fare il campo operatorio quindi dobbiamo ricorrere alla carta dei guanti per creare il campo operatorio i bambini li operiamo tutti e due gli occhi perché vengono dal Burkina Faso, dal Mali quindi hanno fatto mille chilometri non possiamo dirgli ti opero un occhio oggi, vieni la settimana prossima quindi è una medicina veramente che ti realizza è la medicina per la quale tu hai studiato è la medicina che ti fa sentire indispensabile, importante per questa gente questa gente chiede solo di essere aiutata e ti sa ripagare in un modo meraviglioso, veramente stupendo vedete le mie sono tutte foto dei bambini perché io mi dedico soprattutto alla cataratta congenita nei bambini i miei collaboratori sono bravissimi e si dedicano anche alle cataratte degli adulti e quant'altro riusciamo a fare un 3-4 missioni all'anno abbiamo creato un circuito con dei volontari francesi, spagnoli con dei volontari di Roma per cui garantiamo una certa continuità terapeutica ai pazienti locali ci facciamo carico del materiale, inviamo due container all'anno con il materiale chirurgico e così riusciamo nel nostro piccolo a realizzare un nostro desiderio, un nostro sogno per il sorriso di tanta gente Benissimo professore, davvero una bellissima storia effettivamente fa molto riflettere anche il tipo di vita che si fa in certi paesi e quanto superfluo appunto abbiamo noi qua allora la ringrazio moltissimo per averla condivisa con noi questa sera ci diamo appuntamento tra un paio di settimane il 27 di settembre ci ritroviamo, parliamo di? vizi di refrazione, un superfluo in effetti perché parleremo di correzione chirurgica, di miopia, di permetropia e stigmatismo vale a dire togliere gli occhiali cosa che in Africa non è neanche pensabile d'accordo, ma nel resto siamo qua noi siamo qui e dobbiamo occuparci di qui allora l'appuntamento con Angoli torna come sempre domani alle 19 adesso vi lascio a tutte le notizie di ETG Prima Pagina e poi a seguire Target, a domani Grazie a tutti